non lo fai mai più non lo farò più che cazzo ha appena detto se vuoi ti posso scopare gratis ok ok costruzione completata allora c'è un lettino per la signorina no fra è lì mi ha chiamato mezzasega sì lo so ma non mezzasega non me l'aveva mai detto no clip no non ci siamo provati